Il leader della Lega Matteo Salvini all'Aquila ieri sera a sostegno del sindaco sciente Pierluigi Biondi è ricandidato alle prossime amministrative per presentare la squadra della Lega in campo alle comunali del prossimo 12 giugno. Alla villa comunale sul palco il leader del Carroccio ha tenuto il suo comizio che ha toccato temi locali ma anche nazionali. Tra questi quello delle concessioni balneari che gli sta particolarmente a cuore. Si è fatto un passo, bisognerà farne altri. L'obiettivo è vincere le elezioni per riconoscere indennizi e poi modificare quello che non funziona. Si è garantito che i piccolini possano continuare nel loro lavoro e nel loro sacrificio però puntiamo a fare di più. Tra i temi più caldi in Italia c'è ovviamente quello della guerra in Ucraina. Per lui deve vincere la diplomazia. Se si continuano a mandare armi tra sei mesi si sarà allo stesso punto. Salvini ha parlato dal palco anche dei referendum sulla giustizia e della loro importanza. L'arma migliore dopo tre mesi di guerra è la diplomazia. Sono contento che oggi Draghi abbia chiamato Putin perché la soluzione è dialogare, ragionare, costringere i combattenti a mettersi intorno a un tavolo e poi si metteranno accordo fra di loro. Se continuiamo a mandare armi fra sei mesi siamo qua ancora a commentare la guerra in corso. Il leader della Lega ha parlato per un'ora e mezza. Si è soffermato anche sul lavoro fatto in regione dalla Lega. I temi a livello nazionale snocciolati sono stati davvero tanti da Matteo Salvini. Per lui la Lega tornerà a guidare l'Italia. Il leader del carroccio a livello nazionale ha attaccato la sinistra che per lui pensa ad altri temi. Quando quello centrale è lavoro, 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 lo ha ripetuto più volte. Sul palco anche il tema poi cavallo di battaglia della Lega, l'immigrazione, con riferimenti anche al processo che lo ha visto coinvolto, parlando appunto dei referendum sulla giustizia. Un secco sì poi da parte di Salvini ai termovalorizzatori. In Campania e Lazio, ha detto, regioni che sono governate dal centro-sinistra, partono 1,5 milioni di tonnellate di rifiuti che vengono smaltiti in altre regioni e paesi, fanno una colonna da 55 mila camion. E questo perché ci sono i signornò, ha detto Salvini, che non li vogliono. L'Italia però, a concluso, si è rotta le scatole dei signornò. Grazie a tutti.